Un uomo è stato investito da un convoglio e ha perso la vita, è successo alla stazione di Arezzo. È successo questa mattina intorno alle 7 sul binario 4 del Frecciarossa alla stazione di Arezzo. I sanitari del 118 arrivati sul posto hanno solo potuto constatare la morte dell'uomo. Pare si tratti di un senza tetto che da qualche giorno stava stazionando nella zona. Sul posto la polfer per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto, al vaglio degli agenti anche le immagini delle telecamere di sorveglianza. Il traffico ferroviario, essendo quello il binario dell'alta velocità, ha subito pesanti ripercussioni ed è stato ripristinato soltanto intorno alle 10.30. Gli inquirenti dovranno adesso verificare se l'uomo che non è stato ancora identificato si sia tolto la vita con questo gesto estremo o si sia trattato di un tragico incidente.